Ah, e poi non te l'ho detto, ma ieri sono andata alla prof di matematica, ha detto che la verifica è proprio andata a bere, l'ultima. Nooo, pazzeschi, è matto, che figata, guardatevi altri video per favore, ah, guarda, questo, metti questo, guarda quanti like ha quello, metti quello, metti quello, metti quello, metti quello, raga, lo faccio io. Sì, dai, così ti vecchia un botto di visualizzazione di like. Poi l'Elisa lo vede, e io faccio il filmato. Dai, facciamolo. No, corri, corri! No! Oddio, no! Perché l'abbiamo fatto? Non doveva finire così. No, no, non doveva fare così. Oh, mio Dio. Non è più in pericolo di vita. Va bene, grazie, grazie mille, buona serata. Allora, le pizze arrivano alle sette e mezza. Dai, Giacomo, bevi un po'. Ti è arrivato un messaggio? È un video, guardiamolo, dai, lo guardiamo insieme, sì? Ma tutto questo vale un like? No, non è più in pericolo. No, non è più in pericolo. Grazie.